I radiattori sono stati protagonisti in questi ultimi anni di una vera e propria rivoluzione dal punto di vista del design e della morfologia. Pensiamo che fino a 10-15 anni fa erano oggetti quasi da nascondere, oggetti tecnici, adesso sono diventati oggetti di design e si inseriscono quasi con un certo protagonismo all'interno degli interior, in particolare i radiatori Antrax li usiamo anche perché si inseriscono da un punto di vista morfologico con la loro pulizia, con il loro design molto pulito, lineare, raffinato e quindi diventano degli oggetti di cui essere orgogliosi o comunque mostrare con una certa determinazione e si inseriscono bene nei contesti. Questo progetto in particolare è stato interessante perché abbiamo cercato di divertito inserire in particolare il radiatore Treo in un contesto di una villa che abbiamo realizzato, quindi un contesto reale, una villa che si chiama L.A. Modern ed è una villa che riprende per certi versi lo stile della villa famosa realizzata da Remcolas a Bordeaux con delle grandi bucature circolari, degli sfondati circolari che appunto hanno ricordato a noi immediatamente la sagoma, anche il design del radiatore Treo. Da un punto di vista materico diciamo che questa villa gioca su questa tricromia, trimatericità data dal legno Twinson, ricomposto dall'intonaco bianco e dal tono naturale ruggine del Corten, per cui l'inserimento di questo radiatore Treo è stato quasi automatico, nel senso che la forma e anche la matericità del radiatore dialogano perfettamente in un contesto che sembra essere quasi quello naturale. A dire la verità se dovessimo pensare a estrapolare una piccola parte, una specie di succo concentrato dell'edificio della villa potrebbe essere rappresentato, questo succo concentrato quasi dal radiatore stesso con la sua matericità e con la sua forma di sfondati circolari, quindi si integra perfettamente all'interno della composizione architettonica. È stato pensato da noi con una funzione panca, per cui c'è stato uno slittamento dell'interpretazione, un allargamento dell'interpretazione del radiatore fino a se stesso attribuendogli anche una funzione diversa, quindi una funzione seduta. Immaginiamo che abbia delle gambe e che all'interno di questi sfondati circolari ci sia magari una luce, un'illuminazione LED che possa regalare così una sorta di vitalità in più al radiatore, creando questo gioco di luci che si inserisce in questo contesto di illuminazione e di riflessi sulla piscina che fa già parte dell'architettura. Abbiamo anche pensato che questi sfondati circolari del radiatore potrebbero addirittura essere pensati come dei secchielli per dei drink, e quindi nell'immagine complessiva del progetto questa panca diventa una sorta di elemento attorno al quale si gioca per realizzare un cocktail all'aperto nell'architettura.